Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di The Witcher. Geralt di Rivia è indubbiamente il simbolo della saga di The Witcher, ma non è di certo l'unico protagonista dell'universo ideato da Sapkowski. Ciri gioca indubbiamente un ruolo cruciale in quasi tutti i romanzi, tanto che alcuni non hanno dubbio a dire che The Witcher in realtà è la saga di Cirilla, anche più di Geralt. Ma cosa rende Ciri un personaggio così speciale? Beh, la risposta reside principalmente nel suo DNA, il suo dono, ma anche la sua condanna. Ciri infatti porta dentro di sé il potentissimo sangue ancestrale, ciò le dò un'abilità uniche e desiderate da moltissimi uomini ambiziosi. In questo video vi parlerò proprio del sangue ancestrale, dei poteri di Ciri, trattando tanti romanzi quanto i videogiochi di CD Projekt. Come suggerisce il nome, il sangue ancestrale, Hen Iker nella parlata antica, ha origini remotissime, antecedenti alla congiunzione delle sfere e al conseguente arrivo dell'umanità nel continente di The Witcher. Le origini specifiche di questo lignaggio di sangue sono in realtà ignote, mentre è arcinota la più celebre antenata di Cirilla, l'elfa Lara Dorren, soprannominata il Gabbiano. Potente maga, Lara Dorren gode di una duplice fama presso gli Elfi. Secondo alcuni è un'eroina tragica che scelse di seguire il suo cuore invece che la ragione. Per altri è una mera e vile traditrice, un modello totalmente negativo da non seguire mai. Ma quale fu la grande colpa o merito di Lara Dorren? Beh, si innamorò di un essere umano, un mago di nome Kragenan di Lodd. In realtà anche gli umani all'epoca ebbero reazioni contrastanti circa la scelta di Kragenan di unirsi con una maga elfa, ma l'amore ebbe la meglio su qualsiasi pregiudizio. L'unione di Lara e di Kragenan generò degli eredi. Il potentissimo e nobilissimo sangue ancestrale si mischiò quindi con quello umano, una vera eresia per alcuni Elfi, come ad esempio il potente saggio Avalak, il quale, tra l'altro, era anche profondamente innamorato della stessa Lara, quindi per lui c'era il doppio fattore, anche quello sentimentale. Ebbe così inizio la lunga e articolata discendenza di Lara Dorren, che, dopo diverse diramazioni e anche alcuni rami secchi, arriva fino a Sirilla Fioneriannon, la figlia di Pavetta di Sintra e di Emirwar Emeris, o Duni come si faceva chiamare all'epoca, di Nilfgaard. Dopo questo rapido accenno alle origini del sangue ancestrale, passiamo ad esaminare il suo funzionamento, tra virgolette, cerchiamo di capire quali siano i grandi poteri spazio-temporali di Sirie perché tutti appunto vogliono mettere le mani su questo lignaggio di sangue. Una domanda, infatti, potrebbe sorgere spontanea. Perché Sirie possiede capacità uniche che né Pavetta né Emir, quindi nessuno di due genitori, possedeva? Beh, Pavetta, almeno in parte, dimostra di possedere alcuni poteri ben oltre l'umano. Durante il suo banchetto di fidanzamento, ruppe mobili e cominciò a levitare, semplicemente urlando, semplicemente con la forza del pensiero, ecco. Ma niente di lontanamente simile ai poteri della figlia. Il tutto sta nel fatto che, per attivarsi al pieno, il sangue ancestrale deve essere presente in entrambi i patrimoni genetici dei genitori. Nei romanzi ci viene rivelato che il principale gene del sangue ancestrale appare solamente nella linea femminile, mentre la linea maschile poteva essere solo un mero attivatore, risultando quindi in qualche modo latente. Nel caso di Siri, quindi, Pavetta possedeva il gene del sangue ancestrale, però inattivo, mentre Emir Oduni possedeva l'attivatore latente. Ed ecco quindi che, quando si sono uniti i genitori di Siri e hanno generato una figlia femmina, puff, il sangue ancestrale si è attivato pieno dei suoi poteri, che sono ben oltre quelli di un ottimo mago, sono proprio oltre la magia i poteri del sangue ancestrale. Ma appunto nel dettaglio quali sono le potenzialità di questo sangue, quindi quali sono le potenzialità della stessa Sirilla? Come dicevo Bocanzi, Siri possiede massicci poteri spazio-temporali, che le consentono, una volta addestrati ed affinati, di teletrasportarsi in un preciso luogo a scelta, semplicemente pensando intensamente al suddetto luogo. A differenza dei maghi, Siri non apre un portale magico, semplicemente scompare da un posto X per ricomparire, tutta intera, in un posto Y. Per questo motivo Yennefer e anche altre maghe l'hanno soprannominata la signora dello spazio e del tempo, un nome tanto suggestivo quanto assolutamente veritiero. Siri può sfruttare il suo potere anche sul campo di battaglia, ovviamente, compiendo rapidi salti spaziali per disorientare il nemico. Il tutto ovviamente diventa più efficace grazie anche al fatto che la giovane Siri ha ricevuto un addestramento da Witcher, da Geralt e da Vesemir presso la fortezza di Kaer Morhen. Nei videogiochi, in particolare in The Witcher 3, è possibile vedere i poteri di Siria e l'opera, o almeno l'interpretazione che ne ha dato CD Projekt. Non ho mai negato che un eventuale The Witcher 4, con protagonista Siri, potrebbe contare su un gameplay alquanto accattivante, basato proprio sui poteri del sangue ancestrale che scorre nelle vene di Sirilla. Chissà, magari un giorno Siri ci farà un vero pensiero e, chissà, ci troveremo con una Siri potentissima che sfrutta pieno il suo lignaggio. Ho accennato in apertura del video che molti desiderano mettere le mani sul sangue ancestrale che scorre appunto nelle vene di Siri, o per meglio dire di Zirel, come la chiamano gli Elfi, letteralmente la rondine. In generale, diversi En-El, ossia la parte del popolo elfico che non vive sul continente, hanno cercato in tutti i modi di riappropriarci del sangue ancestrale che scorreva appunto nelle vene di Siri, elaborando vari piani e varie strategie. Tra essi troviamo re Auberon, il sovrano di Tirna Liaf, a tal proposito vi consiglio la visione del mio video sulle razze ancestrali, nonché il padre di Lara Dorren, che aveva ordinato il rapimento di Sirilla al comandante della celebre unità dei Cavalieri Rossi, ossia Eredin, noto anche come lo Sparviero. Qual era il piano di Auberon? Auberon intendeva unirsi carnalmente con Siri per riportare il suo nobile lignaggio all'interno degli Elfi. Per fare ciò, Sirilla venne, diciamo così, educata e seguita dal mago Avalak, che tentò di realizzare il piano di Auberon in onore del suo vecchio amore, Lara Dorren. Il piano di Auberon alla fine non andò a buon fine per una serie di motivi illustrati nel dettaglio nella saga letteraria. In primis il re faticava a trovare attraente la giovane umana. Vi ricordo che per molti Elfi, soprattutto Enel, gli esseri umani sono alla stregua di scimmie senza pelo. Auberon non fu mai violento per carità con Siri, forse in virtù della sua lontana discendenza proprio da Lara Torren. Alla fine re Auberon morì in circostanze alquanto sospette dopo aver bevuto un Elisir, probabilmente, anzi senza probabilmente, avvelenato da Eredin. Bramoso di ottenere il trono di Tirnalia e determinato a diventare il più potente, Elfo Enel. Eredin aveva piani per Siri, ma alquanto diversi rispetto a quelli del predecessore. Niente accompiamento, diciamo così, ma più mero sfruttamento dei poteri del sangue ancestrale tramite esperimenti scientifici e di magia. In The Witcher 3, Eredin esolge proprio il ruolo di principale antagonista in virtù del suo desiderio di impadronirsi del retaggio genetico di Siri. Per questo motivo, il re della caccia selvaggia e i suoi uomini come il possente Imlerith e Carantir inseguono la giovane tra i mondi, sfruttando le conoscenze in materia di viaggio spazio-temporale dei cosiddetti navigatori, potenti maghi della caccia selvaggia capaci di dominare il potere del bianco gelo per teletrasportarsi da un mondo all'altro. Il finale di The Witcher 3, occhio ragazzi, vedete qua, dico un mega spoiler, non si è mai ben capito, cioè è un po' strano cosa succede, riguarda appunto il sangue ancestrale. Sappiamo appunto che Cirilla, grazie al sangue ancestrale, è riuscita in qualche modo a fermare il bianco gelo che stava per invadere il continente. Ecco, questa è una delle principali note negative del titolo CD, perché è un finale poco chiaro che non ti spiega tanto quello che succede ed è criptico anche per i più esperti in materia di lore. Forse Siri ha scatenato i suoi poteri sopprimendo l'origine del bianco gelo, ma questa è una mera ipotesi, cioè non ti viene spiegato. In The Witcher 3 viene anche mostrato un dettagliato albero genealogico del sangue ancestrale realizzato proprio da Avalak, che ritrae tutto il percorso di questo potente gene dall'Ara Dorren proprio fino a Siri. Del resto Avalak ha condotto numerosi e dettagliati esperimenti genetici in materia di Anycare, con l'obiettivo di separare il genoma elfico da quello umano, come diciamo così per ripulire il lignaggio antico del sangue ancestrale. Il saggio però non ha mai ottenuto risultati concreti. Bene ragazzi, questo è sostanzialmente tutto quello che sappiamo sul sangue ancestrale, ovviamente una delle tematiche più importanti della saga di The Witcher, perché ovviamente dà una dimensione a Siri tutta sua. È molto interessante notare come nei giochi quanto nei libri, spesso il fatto che Siri sia costretta a portare su di sé il peso del sangue ancestrale la faccia sentire un po' oppressa da questa cosa, nel senso è un potere incredibile, gli dona dei poteri appunto pazzeschi il sangue ancestrale, però gli dà anche un fardello quasi insostenibile da portarsi dietro, non solo perché viene sempre cacciata da qualcuno, appunto da Ereddin, prima ancora da Oberon che vuole costringere ad avere un rapporto con lui, ma proprio perché molti la vedono solo in virtù di quello che lei è, non di quello che lei potrebbe essere. Nel senso lei è la signora dello spazio del tempo, lei è la portatrice del sangue ancestrale, quasi prima ancora di Cirilla, la possibile Witcher o la possibile regina, ecco. E questo è sicuramente un bel risvolto per il personaggio di Siri. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un mi piace al video ed iscrivervi al mio canale se il video vi è piaciuto, se avete voglia di sentire altri argomenti a tema dei Witcher indicatelo nei commenti. Vi ricordo che potete seguire anche i miei profili social, basta cercare Lorenzo Divus tanto su Facebook quanto su Instagram. Vi ringrazio l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!